Le truppe ucraine si sono ritirate da Avdivka. Il presidente russo Vladimir Putin ha salutato la conquista della città ucraina orientale da parte del suo esercito come un'importante vittoria. Secondo il Ministero della Difesa russo, dopo aver preso il pieno controllo di Avdivka, le forze russe sono avanzate per 8,6 km. Secondo la Russia, l'esercito ucraino nelle ultime 24 ore ha perso più di 1500 soldati. Il comandante del gruppo strategico ucraino Tavria ha dichiarato che in quattro mesi ad Avdivka le perdite russe sono state di oltre 47.000 militari. Secondo le forze armate dell'Ucraina, almeno tre persone sono state uccise in un bombardamento russo su un edificio residenziale nella città ucraina di Kramatorsk, nel Donetsk, nella notte di domenica. Secondo l'aeronautica militare ucraina, la Russia ha lanciato una dozzina di missili di vario tipo e 14 droni Shahed contro l'Ucraina nella notte del 18 febbraio. Le forze di difesa aerea hanno abbattuto un missile nemico e 12 droni.